Invito al viaggio è il titolo della mostra personale allestita presso la galleria rielaborando fino al 23 febbraio dietro la curatela di Daniela Meli e Tiziana Tomei. Roberto Ghezzi è il protagonista assoluto di una mostra introspettiva, un giovane talento senza dubbio. Roberto Ghezzi si è affermato sulla scena non soltanto locale ormai da qualche anno, risultando ben piazzato, addirittura vincitore a concorsi importanti. La pittura di Roberto Ghezzi può essere definita figurativa per certi aspetti ma molto ben incentrata su un'indagine psicologica che si esprime attraverso vedute all'infinito, colori soavi, atmosfere sospese, donne nude dentro stanze praticamente soltanto illuminate da intensità di luce proveniente da un'unica fonte. La mostra si sviluppa anche in alcuni negozi della città che è un'iniziativa questa altre volte intrapresa che senza dubbio contribuisce a dare questo senso di arte contemporanea oltre quelli che sono gli ambienti e le istituzioni preposte al servizio, alla lettura di chiunque passi per la strada.